Un ringraziamento a Chiara Zena e a tutti i ragazzi, a tutti i volontari, a tutti coloro, i medici, insomma a tutti coloro che ci hanno creduto. Chiara Zena e Team for Children, io lo posso dire, sono dimostrazione che la forza di volontà sposta anche le montagne. Team for Children, la Ollus Padovana che da anni è impegnata nel sostegno dei piccoli malati oncologici delle loro famiglie, ha deciso di donare parte delle donazioni, circa 25.000 euro, alla Regione Veneto per fronteggiare l'emergenza Covid. Il governatore Luca Zaia mostra orgoglioso l'assegno appena ricevuto, mischiando gioia ed imbarazzo. Ho fatto fatica ad accettare questa somma perché Team for Children vive di donazioni che usano per aiutare tanti ragazzi malati. Questo è il Veneto che non si arrende mai, ha detto Zaia. In questi mesi i volontari di Team for Children hanno elevato al massimo la sicurezza per tutelare i piccoli pazienti oncologici ricoverati all'ospedale di Padova. Abbiamo preferito fare questa donazione per mettere al sicuro tutti i nostri operatori. Com'è la situazione al momento? Beh, noi attualmente purtroppo non possiamo accedere ai bambini. Questa per me è una grandissima tristezza perché io vivo dei bambini, sono nata in quel reparto e attingo da loro tutte le mie energie. Attualmente i bambini sono blindati dentro e con un genitore, solamente un genitore. E devo dire che nel nostro reparto non c'è stato un Covid, né tra i bambini e nemmeno tra gli operatori. Importante è questo. Grazie. Grazie a tutti.